Il mio cuore è pieno di gioia, sono felice di essere tornato a pregare al Santo Sepolcro dopo tutto questo tempo. Issa da questa mattina è tornato nel luogo dove, secondo la tradizione cristiana, Gesù è morto e risorto. A 60 giorni dalla chiusura, disposta dal governo israeliano per contenere la diffusione del Covid-19, la Basilica ha riaperto i fedeli. Non un'apertura solenne, come molti si aspettavano, le norme prevedono che dentro il luogo sacro siano ammesse solo 50 persone alla volta. L'unico problema è gestire il numero quando ci sono in contemporanea più celebrazioni, di più comunità. Questo è evidente, non si può lasciare un'apertura indiscriminata, bisogna che sia un'apertura controllata. Ci sarà un aprire e chiudere, sì. I primi fedeli sono arrivati nel sagrato della chiesa già dalle 4.30 di questa mattina. Qui di fronte al Santo Sepolcro ci sono fedeli che attendono da ore di poter entrare all'interno della Basilica. Tra loro Antonella, italiana che vive e studia a Gerusalemme. Nonostante un'attesa di quasi 4 ore, non è riuscita ad entrare nella Basilica. Alle 7 e mezzo sono venuta perché di solito c'è la messa alle 8, speravo di entrare per la messa delle 8, ma hanno aperto. Hanno fatto entrare solo alcuni fedeli.